La Serie A tutta in accademia. Fote! Impressionante! Ha cambiato la partita! Se vuoi essere il campione, devi sconfiggere tutti gli sfidanti. Vado! La messa all'incrocio, gran gol! Ma quando il tuo avversario è nell'angolo, la sua reazione può essere imprevedibile. Bonchissimo! Fa sole col Belli! Mani, rete, con gran golla! Juventus Milan, sabato dalle 19.30 su Sky Sport 1. Grazie a tutti!